Billy decide di seguire gli insegnamenti di Mr. Colombo, facendo carriera nella Frost Brother, la più grande banca di investimenti di New York. Impara a seguire i profitti a breve termine, destreggiandosi tra i rischi e producendo denaro dal denaro. Si distacca sempre di più dal mercato reale, generando invece conseguenze molto reali. Grazie per la visione!